Si sta sfiorando la media di un incidente stradale ogni due giorni sulla strada provinciale 19 che collega Pachino con noto. Anche in questa occasione, teatro dello scontro, il pericoloso incrocio a raso e privo di rotatoria, meglio conosciuto come incrocio della vita novella e, per dovere di cronaca, i protagonisti di questo scontro sono tutti residenti a Pachino. Una Peugeot 3008 guidata da una giovane mamma con a bordo la piccola figlia di 4 anni, seduta correttamente sul seggilino posteriore, procede verso Pachino. Intanto, dalla parte opposta, una Citroen C3 condotta da un giovane automobilista si dirige verso la strada provinciale 85, l'arteria che viene solitamente percorsa per chi deve dirigersi verso Portopallo di Capopassero, Isola delle Correnti o Ispica. L'uomo sulla Citroen C3 quindi si avvia per svoltare ed immettersi sulla strada provinciale 85, ma non si accorge dell'arrivo del SUV francese. L'impatto è inevitabile, lo scontro è violento e fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi. La parte anteriore della C3 è praticamente scomparsa, i pezzi delle macchine sono sparsi ovunque. Tuttavia, grazie all'attivazione degli airbag, si sono evitate ferite gravi per gli occupanti delle due vetture, che comunque, a causa di qualche lieve contusione, si sono rivolti presso l'ospedale Trigona di Noto per eventuali accertamenti. Sul posto presenti sia la Polizia di Stato che i carabinieri, oltre alla Polizia Municipale di Pachino e un carro attrezzi. Il traffico ha subito sostanziali blocchi e creato lunghe code in tutte le direzioni. Come detto più volte nei nostri servizi, così come ampiamente denunciato anche da turisti e residenti, la costruzione di una rotatoria metterebbe fine a questa escalation di girenti stradali.